Il principe Ferri e Meghan Markle stanno cercando di recidere una volta per tutto il loro legame con la famiglia reale. Ha affermato una fonte vicina alla coppia. Il principe Ferri e Meghan Markle hanno chiuso le loro vite precedenti. Ha affermato un insider, mentre la relazione del duca con la famiglia reale è finita. Con l'avvicinarsi degli Invictus Games e l'uscita della nuova docuserie Netflix di Ferri Art of Invictus, sembra che la coppia stia tentando di concentrarsi su progetti non legati alla famiglia reale. Inoltre, circolano voci che Meghan Markle rilancerà il suo blog di Lifestyle TTIG dopo la sua riapparizione sui social media. La duchessa ha recentemente aperto il suo nuovo account Instagram che ha già più di mezzo milione di follower. Un insider ha affermato che la separazione dalla famiglia reale è permanente per i Sussex. Aggiungendo che il rapporto di Ferri con la sua famiglia è, finito, hanno chiuso con le loro vite precedenti, ha detto al Telegraph una fonte vicina alla coppia. Parlando di un potenziale incontro relativo ai prossimi Invictus Games, l'insider ha aggiunto. Non stanno parlando di famiglia. Non c'è alcuna aspettativa che la famiglia si presenti, o lo riconosca o che qualcuno voglia vederlo. È finita. Le tensioni tra i Sussex e il resto della famiglia reale, sono esplose nell'ultimo anno con il rilascio di diversi progetti critici, nei confronti dello studio. Lo scorso dicembre, una docuseria Netflix pubblicata dalla coppia Ferri e Megan, descriveva dettagliatamente la loro relazione, il matrimonio e l'infelicità all'interno della famiglia reale. Tuttavia, la bomba più grande è stata l'uscita del libro di memorie del principe Ferri, Spare. Il libro descriveva dettagliatamente i presunti conflitti tra la principessa Kate e Megan, il principe William e Ferri, ed era critico nei confronti della moglie di re Carlo, la regina Camilla.